Ora di cena e quindi ecco cosa mi sbrano, un bistecone che vuoi dire in quanto... Oh, ma scusate, ma è una presa in giro? Quella bistecca è cucinata! Ho una fame della madonna, quindi mi sbrano tutto. Il primo principio ancestrale riguarda il sonno. Secondo questo principio dobbiamo dormire dalle 7... Ragazzi, fermi, fermi, l'avevamo detto all'inizio del video, non l'avevamo detto. Oh, sono d'accordissimo, d'accordissimo. Le 9 ore a notte. E per rendere ancora migliore il nostro recupero dobbiamo... Esporci alla luce del sole come prima cosa... Giusto, giusto.